Questa è la strada che porta Orio al serio, queste sono le auto che sono in sosta e aspettano di entrare a ritirare i passeggeri all'aeroporto di Orio, sia la destra che la vostra sinistra. Capita sempre così in queste giornate dove i voli sono moltissimi in partenza soprattutto per questa festività del San Agosto. Oggi è domenica, è una giornata piena di voli, di partenze e sono molte le auto che hanno portato qua. Di nuovo auto in sosta. Ecco qui si accostano e attendono il volo turbo per entrare poi a ritirare i passeggeri a ritirare i miei!